3 su 3 e chi se l'aspettava? Di certo in Abruzzo c'era, chi in fondo sperava nell'Ampline? Certo, forse con un po' meno di sofferenze, all'ultimo sospiro del campionato. Che però sotto il diluvio di Teramo riserva alla nostra regione il regalo più bello. Chieti, L'Aquila e appunto Teramo, in rigoroso ordine di classifica, e poi l'Apriglia come unica extra regione a giocarsi la prima divisione. Domenica lunghissima sui campi, si comincia in contemporanea, ma si finirà ad orari molto differenti. La partita di riferimento è quella dell'Otti, dove il Pogibonzi scappa con Miniati e in guai al Teramo, che a pieno daccio va sotto per merito di vetraino. Toscani che raddoppiano con Pera, quando i biancorossi hanno già iniziato la mega rimonta. Poi l'Aquazzone, che ha fatto tanto discutere. La sospensione, il gol della badiera di Fiordiani per il Foligno, che agli Umbri non basta per mantenere la categoria, ma che al Teramo, in vantaggio 3-1, foglie e doppietta di Bucchi, fa capire che manca un gol per i play-off. Alla mezza e all'Aquila, nonostante l'interruzione anche qui di 11 minuti per il lancio di rotoli di carta, sa che lo 0-0 basta e avanza. Stesso ragionamento per i Lametini, salvi perché in vantaggio negli scontri diretti col Gavorrano, che abbatte un Ponte d'Era già promosso e con nessuna velleità di classifica. Questo risultato manda in D il Foligno, a causa della differenza reti, mentre Martina Franca e Borgobugiano intuiscono che, per come stanno andando le cose, il 2-2 scoppiettante che sta maturando al Tursi è un ottimo risultato. Il Chieti, in vantaggio con Barbone e all'Angelini, nonostante avrebbe a tiro il terzo posto, quello migliore per affrontare gli spareggi, se lo fa scappare ad inizio ripresa, lasciando all'Apriglia, che passeggia ad Aversa, il terzo gradino, quello che porta allo scontro con la sesta, di cui però ancora non si conosce il nome. Il Pogibonzi ha già fatto il suo, ma forse non fino in fondo o come sperava. Alle 16.51 riprende il match di Piano Daccio, mancano 18 minuti al novantesimo, poi gli 8 minuti di recupero, fino alle 17.17, secondo più, secondo meno. A Teramo gli scaramantici dovranno rassegnarsi, perché è il minuto in cui De Stefano mette giù il pallone. Il gol manda all'inferno il Pogibonzi, il livido di rabbia, è già da mezz'ora negli spogliatoi e in Paradiso il Teramo, che si mette a bracetto con le due sorelle abruzzesi, tre capoluoghi per un posto in prima divisione. Si parte il 26 maggio, sognando una finale che sia roba tutta nostra.